INAIL, l'Istituto Nazionale di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ogni mese pubblica un report elaborato dalla Consulenza Statistica sull'incidenza dei contagi sul lavoro da Covid-19. In questi giorni l'INAIL ha pubblicato il dodicesimo report nazionale sull'infezione di origine professionale, riferito al 2020, contiene i dati di dicembre. Nell'ultimo mese dell'anno si sono registrati quasi 27.000 casi rispetto alla fine di novembre, più 25,7%, un numero che conferma l'impatto più intenso della seconda ondata dell'epidemia. Infatti bene il 57,6% delle denunce è concentrato nel trimestre ottobre-dicembre. I contagi denunciati all'INAIL alla data del 31 dicembre sono 131.090 casi, pari al 23,7% delle denunce di infortunio prevenute all'Istituto nel 2020 e al 6,2% dei contagiati nazionali totali comunicati dall'Istituto Superiore di Sanità, l'ISS, alla stessa data. Il record negativo con quasi 36.000 infezioni segnalate spetta al mese di novembre. C'è dal sottolineare che in questo tipo di malattia professionale da coronavirus i più colpiti risultano infermieri, operatori sociosanitari e medici, un quarto dei decessi nel settore della sanità e assistenza sociale. Gli altri settori più colpiti sono i servizi di supporto alle imprese, quindi vigilanza, pulizia e call center. Ancora il manufatturiero, tra cui gli addetti alla lavorazione di prodotti chimici e farmaceutici, la stampa, l'industria alimentare, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione, il commercio, il trasporto e magazzinaggio. Ancora le attività professionali, scientifiche e tecniche, consulenti del lavoro, delle logistiche aziendali e di direzione aziendale e altre attività di servizi, come poppe funebri, lavanderia, riparazione di computer e di beni alla persona, compresi parrucchieri e centri benessere. E' stata rilevata un'altra percentuale di contagi tra le donne, tra il 75 e l'80%. Nel caso però degli infortuni mortali la percentuale si inverte, con l'80% dei decessi tra i maschi. L'impatto del contagio è stato più forte in Lombardia, al secondo posto il Piemonte.